Bella a tutti e benvenuti su LeonTube, eccoci in questo video per andare a fare questo sacrario, quindi andiamo subito Il sacrario di Susu Yai, ok lasciamo il nostro bel cavallo E andiamo a fare il sacrario, saltiamo la parte perché tanto è tutto uguale Entriamo dentro al sacrario una volta aperto Ok L'oggetto rotante, sacrario di Susu Yai, ok l'oggetto rotante Allora vediamo un po' Ok Qui cosa succede se vado giù? Non dovrebbe succedere niente Qui io potrei passare tranquillamente, no? Uh, per un pelo Ok, qui dobbiamo costruirlo quindi, lo stesso l'abbiamo visto Ok Ok Ora lo colleghiamo meglio Ok Diciamo che Prendiamo, si prendiamo questo Allora lo mettiamo qui in piedi così L'altro Qui in piedi così Dai Ok, vabbè, lo attacchiamo in quest'altro modo Ok Ok Dovrebbe andare benino così, vediamo Per modo di dire Stai sopra Ok 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 Vabbè Vediamo se va Allora lo portiamo qua Sicuramente andrà storto Ok 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 Dai che ce la stiamo per fare Anche se va storto Vado a tornare indietro No, lo riprendiamo Ok Adesso Ho una vaga idea Vediamo se lo lascio Che fa Allora Questa si alza Mentre Mentre gira Perfetto Dobbiamo prendere Una di queste qua Vediamo che basti una Intanto guardiamo un po' in giro Allora Vabbè Qualsiasi Va bene Va bene Qualsiasi lato Ok L'ho fatto inderrapata Prendiamo sempre Un po' del materiale Non dovrebbe servire Però Ehi 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 Passa Vediamo un po' Allora Sto sempre guardando in giro Se ci fossero dei Scrigni Allora Ok Vediamo un po' Se così sta No Non sta Ah ok 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 perfetto Torna indietro E ne fa Vediamo che servono Che servono Due Ma Ah si lo posso Mettere No ok Perfetto Perfetto L'ho messo sicuramente Al rovescio Eh Vediamo un po' E infatti E infatti Lo messo al rovescio Vediamo un po' Ok 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 Rigompare Allora Ah ma noi potrei E' vero Posso metterlo sopra Senza attaccarlo Così Restort Allora no Ah ok Non sta Per questo Forse ce ne sono due E' un po' Allora E' andata poco Così Bastatura Allora Uno Così Così Dovrebbe tenere E' uno Così Ah Oppure Proprio Lo attacco Ok Così È attaccato Dovrebbe andarlo Ok Ok Però Dov'è lo scrigno Non c'è Non c'è Non c'è uno scrigno Vediamo se c'è dietro No Non c'è O non l'ho visto io Lo scrigno Qui A meno Non c'è Non c'è Non c'è Nel primo punto Ok E questo L'abbiamo Fatto Se il video Vi è piaciuto Mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo Con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate Di lasciare un commento E come sempre Se vi va Vi invitiamo A iscrivervi Al nostro canale Non dimenticate Di cliccare la campanella Per non perdere I nostri aggiornamenti Ciao a tutti E qui saltiamo Perché tanto E' sempre Lo stesso I dialoghi Sono sempre Gli stessi